Siamo in grado, forse, di costruire, perché è stato un studio tridimensionale, quindi potremmo andare un po' dopo, quindi potremmo andare lì a casa. C'è la frutta Zalabin che ha fatto una linea del quattrocento che era il coro. Allora, guarda, ho una sottolinea di San Francesco, poi avevamo un enceomo del 500 in Cattapesca di Montovello, restaurato di recente. Abbiamo recuperato, forse riusciremo, qui c'era una tomba scolpita da Antonello Vecchio, poi inquadrate in questo coro, e siamo alla seconda metà dell'inferenzione. Fortunatamente anche. Ma c'era quel vento, quel vento, con quel vento e quella panura, era tutto circondato, quindi i lapilli, le funigini. Ma perché si vede c'erano degli alberi bruciati e quello accanto no, cioè dipende dal vento, quello che si trasporta. Sì, dipende dal vento, quello che si trasporta. Sono dei giorni di inferno, Presidente. L'inferno era stato... non si sapeva da mandare per io. Allora, al prossimo poco la chiesa ha contagiato il piano superiore, che era un piccolo museo delle nostre cose, palati sacri. Da qui vediamo semplicemente... Questo era il luogo dell'urna di San Benedetto. San Benedetto, San Benedetto era qua. E lì di fronte c'era l'urna del Beato Matteo. Il Beato Matteo, che è il fondatore, tra l'altro. Il Beato Matteo, che ha parlato dagli giorni con la missa della delegata del Beato Matteo, che ha mandato superiore a tutti. Grazie per il carattere. Andiamo a cambiare alcune strategie. Devo cambiare, Presidente. Presidente, è sempre un piacere. Grazie per la tua presenza e il tuo sostegno. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie.